I sorrisi stampati sui volti e la pergamena in mano, ecco le foto scattate ai 24 infermieri che si sono laureati il 28 aprile scorso all'Università Politecnica delle Marche, un motivo di orgoglio anche per la commissione formata dalla Presidente dell'Ordine degli Infermieri Laura Biagiotti, dalla sua vice Sonia Sperandio e dalla dirigente del corso, nonché Presidente della Commissione Albo degli Infermieri Tiziana Benedetti. Ora però, dopo le tante ore di studio, i tirocini e questo importante traguardo raggiunto, i ragazzi sono alla ricerca di un posto di lavoro stabile e sicuro. Per Biagiotti, questi neolaureati, sono una grande risorsa per il nostro sistema sanitario, ma c'è il rischio che per il loro futuro professionale vadano fuori regione. La fuoriuscita di questi nuovi infermieri sul nostro territorio sicuramente è di buon auspicio e sono risorse che non dobbiamo assolutamente perdere. Ecco, ma in quali strutture prenderanno servizio? Questo purtroppo è un dato che non c'è dato di sapere, perché so che le richieste sono tante, ma parlando con questi neolaureati sembrerebbe che ci siano richieste, ma non nel pubblico impiego, ma semplicemente nel privato. O se è pubblico impiego, sembra che vadano in altre regioni. È un peccato, c'è qualcosa che non va, visto che si parla anche di carenza di personale in questo settore. Sicuramente questo inciderà tantissimo anche sulla nostra sanità provinciale, regionale, perché perdere queste risorse sicuramente comporta non poche difficoltà. Abbiamo visto che il personale manca, il personale infermieristico che fuoriesce da qui non ha spesso delle garanzie di poter fare un lavoro a tempo indeterminato, ed è per questo che si rivolgono su altre strutture anche fuori regione. Ci auspichiamo che in questo caso siano solo dei momenti temporani, ma che la regione stessa prenda subito in considerazione l'assunzione di questo personale, per permettere al personale che oggi abbiamo nelle nostre strutture pubbliche di poter fare ferie e di cercare di evitare di chiudere più possibile i servizi nel periodo estivo per garantire le ferie essenziali ai dipendenti. Attualmente ci sono dei bandi in corso oppure no? In questo momento a noi come Ordine non è arrivata nessuna segnalazione di bandi pubblici, sia dall'area vasta né dall'azienda Marche Nord, per quanto riguarda la nostra provincia, ma neanche per quanto riguarda il livello regionale. Quello che ci viene in questo momento richiesto sono semplicemente le strutture private che richiedono nell'RSA, richiedono il personale nelle case di riposo, che sicuramente anche queste sono in grande difficoltà, perché il personale sembra un po' richiesto da tutte le parti, ma poi appena possono questi ragazzi, per avere uno sbocco professionale sicuro, tendono a abbandonare proprio la nostra provincia, la nostra regione.